Ho avuto il piacere di ospitarvi questa sera per una nuova avventura. Spero che ce la metteremo tutta per il nostro cammino che vorremmo percorrere insieme. Non ci fermeremo solo a Girosa, ma con il signor di Luca andremo sicuramente avanti. Buon appetito e ci vediamo più tardi. Grazie a tutti.